Tragedia nelle Filippine. Un aereo militare con oltre 90 persone a bordo si è schiantato in fase di atterraggio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il velivolo avrebbe fallito l'imbocco della pista e non sarebbe stato in grado di rialzarsi. 29 i morti accertati finora, 50 le persone in salvo, tra cui due piloti gravemente feriti. Continuano le ricerche dei dispersi. La Caritas compie 50 anni.